Ok, ciao a tutti ragazzi, eccoci nuovamente in classe con una fantastica puntata di filosofia kantiana. Oggi dobbiamo approfondire il discorso sul bello, su che cos'è il bello secondo Kant, stiamo parlando naturalmente della critica del giudizio. E' forse questo uno degli argomenti che in genere piace di più ai ragazzi, perché noi siamo una società intrisa di concetti legati al bello, all'apparenza, all'estetica, siamo nel mondo degli influencer. Ieri ho visto un film divertentissimo di Fabio Volo, Genitori contro influencer, un prof di filosofia contrario agli influencer, che invece poi, suo malgrado, diventa anche lui stesso un influencer e si innamora della tizia, la super influencer, che mio figlio conosceva anche. E quindi si parlava proprio di forma e di sostanza, di quanto dietro le forme spesso si nasconda un'assenza di significato e un po' un'assenza di scopo e di valore. E quindi un mondo di bellezza. Ma sappiamo cos'è la bellezza, che cos'è il bello? Ecco, Kant nella prima parte della critica del giudizio ci parlerà proprio di che cos'è il bello. E quindi vediamo la sigla e poi inizieremo a parlare delle quattro definizioni di Immanuel Kant sul bello. E quindi vediamo la sigla. Ok, allora partiamo nel dire che quando Kant ci parla di estetica, parla di questo termine, nel senso comune che sia di questo termine, cioè lo studio del bello. Questo è una doverosa premessa perché, se ci ricordiamo, nella critica della ragion pura aveva già utilizzato il termine estetica, estetica trascendentale, ma invece l'aveva utilizzata nel senso greco etimologico, cioè lo studio di ciò che appare. Qui invece parla di estetica come studio del bello. Ok? La prima domanda che ci facciamo è da cosa deriva il senso del bello? Ok? Perché noi di fronte a qualcosa di bello proviamo una sensazione e esprimiamo un giudizio riflettente dicendo questo tramonto è bello? Ok. Secondo Kant, noi esprimiamo un giudizio riflettente di questa natura nel momento in cui proviamo piacere. Se noi siamo di fronte a qualcosa che suscita il sentimento del piacere, questo per noi è la prova, diciamo, interiore del senso del bello. Noi proviamo il senso di bellezza quando qualcosa genera in noi piacere. Ok? Infatti il giudizio estetico Kant lo chiamerà anche giudizio di gusto. Quindi giudizio estetico o giudizio di gusto sono giudizi riflettenti, quindi stiamo parlando sempre dell'analisi del giudizio riflettente non determinanti, però sono giudizi riflettenti estetici, ok? Che affronterà nella prima parte della critica del giudizio, mentre i giudizi riflettenti di carattere teleologico ne parlerà nella seconda parte, ok? Quando parlerà della finalità e del senso, diciamo, di finalità della natura. Ok? Iniziamo da una citazione. Per dimostrare se una cosa è bella o no, noi non riferiamo le rappresentazioni all'oggetto mediante l'intelletto, in vista della conoscenza, ma mediante l'immaginazione, forse congiunta con l'intelletto, la riferiamo al soggetto e al sentimento di piacere e di spiacere di questo. Il giudizio di gusto non è dunque un giudizio di conoscenza, cioè logico, ma estetico, ok? Sta ponendo una grande differenza tra il giudizio di carattere logico, che è un giudizio riflettente, in cui si congiunge A con B, il tavolo è quadrato, la penna è un grave che cade a questa velocità, un palazzo è alto 20 metri, un elefante è pesante una tonnellata, si unisce il concetto di elefante al concetto di peso e di tonnellata, mentre qui si sta congiungendo A con S, cioè A, l'oggetto fuori di me, S, il soggetto, e il sentimento che prova il soggetto. Quando io dico quindi un tramonto è bello, non sto predicando qualcosa del tramonto, ma sto predicando qualcosa del soggetto che osserve il tramonto, cosa sta provando il soggetto. Quindi è un giudizio di carattere riflettente, ok? Tutti i giudizi di gusto sono di carattere riflettente, cioè non pretendono di spiegare uno stato di cose, pretendono di spiegare uno stato interno. Quindi, attenzione, questo è importantissimo, quando noi diciamo che qualcuno è bello, o qualcosa è bella, non stiamo dicendo che quel qualcosa ha delle caratteristiche intrinseche che la rendono bella, ma che quel qualcosa interagisce con il mio animo, con il mio io, con il mio sentimento, e mi fa provare un piacere che io chiamo bellezza. Quindi, dire il tramonto è bello significa dire che io in un certo senso sto riflettendo il bello che c'è nel tramonto. Sono io uno specchio che si illumina di bellezza riflettendo la bellezza del tramonto, ok? Sono io in un certo senso che sono bello nel momento in cui provo la bellezza del tramonto, ok? Non sto parlando di un mondo fuori di me, sto parlando di una reazione che avviene all'interno di me, una reazione sentimentale. E qui ci fa capire benissimo il salto che c'è rispetto a tutto quello che abbiamo fatto finora, in particolare alla critica della ragion pura, perché sta facendo leva su una nuova facoltà, la facoltà del sentimento, non più la ragione, non più l'intelletto. Qui si sta studiando il sentimento, ok? Ora, però, qui stiamo dicendo che noi, di fronte a un bel tramonto, a un'opera d'arte, eccetera, eccetera, proviamo il senso del bello. La domanda di cui, diciamo, si occuperà, cercherà di dare una risposta, è che cos'è il bello. Ora, per, diciamo, definire il bello, Kant darà quattro definizioni. Ci sono quattro condizioni che qualcosa deve avere, secondo Kant, per essere definita bella. E questa definizione, queste quattro definizioni, io vi prego di fare molta attenzione, perché ci porteranno in una direzione diversa da quella che è il senso comune attuale sul concetto di bello. Cioè, noi, vi preannuncio già che l'arrivo di questo discorso ci sorprenderà, perché arriveremo a capire una definizione di bellezza che, per alcuni aspetti, è diversa da quella che è l'attuale concezione che noi abbiamo, ok? E anche rifletteremo un po' su questo alla fine della lezione, capendo quali sono, diciamo, le conseguenze che una visione del bello come quella kantiana ha, e se veramente la nostra attuale, moderna concezione di bello sia effettivamente sostenibile. In particolare, mi riferisco alla soggettività del bello, il tema, se il bello sia oggettivo o sia soggettivo. Per definire il bello, Kant utilizzerà quattro parametri, quattro criteri. Ma questi quattro criteri sono dei criteri che fanno riferimento alle quattro famiglie di categorie, qualità, quantità, relazione e modalità di cui Kant ci aveva già parlato nella critica della ragion pura. Vi ricordate? I possibili giudizi, le possibili categorie che l'io può esprimere, con cui l'io funziona, l'io penso, sono dodici. Quattro tipologie di giudizio per ogni, diciamo, famiglia, per ogni categoria di giudizio. Ok? Quindi giudizi secondo quantità, i giudizi secondo qualità, i giudizi secondo relazione, i giudizi secondo modalità. La più importante tra le categorie era quella della causa-effetto che fa parte, diciamo, della categoria delle relazioni. Ora, così come vi ho detto, quest'opera, la critica del giudizio, è un po' un ponte tra la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica. Infatti, diciamo, fra virgolette, passatevi in termine, ruba alcuni concetti dalla critica della ragion pura e alcuni dalla critica della ragion pratica. In questo senso, Kant sta un po' rubando le quattro tipologie, le quattro famiglie di giudizi che sono la struttura di pensiero del io penso, però applicando queste categorie alle modalità di definizione del bello. Quindi, il bello, secondo Kant, si deve definire secondo quantità, qualità, relazione e modalità. Ok? Bene, partiamo dalla prima definizione. La definizione del bello secondo qualità. Ok? Kant dice il bello è oggetto di un piacere senza alcun interesse. cioè la qualità del bello deve essere la capacità di indurci piacere senza alcun interesse. Che vuol dire? Immaginiamoci, ci troviamo di fronte a un quadro di Van Gogh. Ok? Noi possiamo definire questo quadro bello perché ci genera piacere. Ma nello stesso momento in cui ci genera piacere l'osservare, il contemplare questa bellezza artistica potremmo anche pensare che avere in casa un quadro così prezioso, così prestigioso potrebbe ad esempio essere per noi un vantaggio perché chiunque viene nel nostro salotto di casa e osserva un quadro di questo tipo inizierà a pensare di noi che siamo una persona raffinata, una persona che ha gusto e anche una persona molto ricca se può permettersi un quadro di Van Gogh. Ok? Cioè la bellezza che sprigiona il quadro di Van Gogh è una bellezza intrinseca? Cioè qualcosa che ha a che vedere solo con la nostra percezione del bello, il nostro piacere nel stare di lì a guardarlo? O è qualcosa che rimanda a una serie di ragionamenti sociali che noi facciamo sull'opera di Van Gogh? No? Uno status symbol, una bellezza da sfoggiare, una bellezza che mi qualifica come persona amante dell'arte? Pensiamo a una Ferrari. La Ferrari è una bella macchina? Eh sì, da un certo punto di vista è una macchina che può suscitarti ammirazione e stupore, ma l'ammirazione e stupore che prove è per la bellezza intrinseca della macchina o perché se stai su quella macchina sai che tutti si gireranno a guardarti perché è una macchina straordinariamente bella. Cioè la sua bellezza è qualcosa che vale per te o vale in funzione di una qualche utilità sociale. Mi seguite? Mi affaccio di fronte a un bellissimo vigneto, sono nel Bordeaux, ok? O nel Chianti. Una roba da proprio togliere il fiato per quanto è bello, tutti i filari perfetti. È un bel paesaggio, ma la bellezza di quei filari, di quella coltivazione, di quell'eleganza è qualcosa che parla direttamente al mio animo in maniera disinteressata o io magari che sono il proprietario di quella vigna sto pensando che il vino che produrrò sarà di qualità talmente alta che potrò guadagnare tantissimo. Questo bel paesaggio è anche un paesaggio fertile, produttivo e quindi economicamente vantaggioso? Mi capite? Cioè quando esprimo un concetto e definisco qualcosa di bello secondo Kant questa definizione non deve contemplare l'utilità di un oggetto. Ok? Infatti sentite cosa dice Kant quando si tratta di giudicare se una cosa è bella non si vuol sapere se a noi o a qualcun altro importi o anche soltanto possa importare della sua esistenza. Si vuol sapere soltanto se quella semplice rappresentazione dell'oggetto è accompagnata in me da piacere. Cioè se è veramente bella una cosa io non devo neanche essere interessato al fatto che esista questo tramonto e vi faccio vedere una foto di un tramonto meraviglioso potrebbe anche essere generato dall'intelligenza artificiale e non esistere ma ciò non toglie che è l'armonia di quel tramonto a generare in voi la bellezza e non la sua esistenza. Può anche non esistere nella realtà. Questo dimostra che il vero senso del bello non è qualcosa che debba avere un'utilità. se una cosa deve avere un'utilità la Ferrari l'opera di Van Gogh il vigneto nel Bordeaux io sono ben interessato alla sua esistenza c'è una bella differenza tra una Ferrari che ho nel garage e una Ferrari che non c'è ma è bella uguale la Ferrari anche se non c'è la Ferrari è bella per me solo se io sono del tutto disinteressato al fatto di averlo o no potrebbe anche non esistere la Ferrari potrebbe essere solo un'idea ma è bella lo stesso ok? se è bella lo stesso anche se non esiste allora è veramente bella se io per farla diventare bella la devo avere davanti a me e anche mostrare agli altri ecco lì che la stessa bellezza per canto non è più veramente bella avete capito? contamino il giudizio estetico è un giudizio estetico che non è più soltanto estetico ma anche sociale economico di relazione di apparenza mi avete capito? quindi una cosa bella è bella in quanto tale e non perché per esempio possa soddisfare interessi esterni di ordine biologico di ordine morale di ordine utilitaristico il bello come dire fa partita a sé questo è il bello secondo qualità seconda definizione il bello secondo quantità secondo Kant la definizione che dà è il bello è ciò che piace universalmente senza concetto attenzione qui siamo già a un livello un po' più di difficoltà cioè piace a tutti senza concetto che vuol dire? cos'è il concetto? il concetto ce lo ricordiamo è quella diciamo prodotto del nostro intelletto vi ricordate? che lavorando su dati sensibili con le sue categorie alla fine genera concetti e li unisce creando delle proposizioni ok? ora cosa ci sta dicendo Kant? che una cosa per essere bella non deve essere concettualizzabile in altri termini il piacere che deriva dalla contemplazione della bellezza non può e non deve essere per essere veramente bello ridotto a un giudizio di carattere determinante o a un concetto cioè deve essere diremmo oggi noi di pancia deve far venire fuori da me il sentimento di commozione di bellezza di piacere senza la necessità di attivare quei meccanismi intellettuali razionali che definiscono per quale ragione io sto provando piacere cioè deve essere un piacere così forte così intenso ma anche così impalpabile che io non lo riesco a definire non riesco a capire qual è la ragione per cui un tramonto è bello ragazzi voi siete in grado di dire perché un tramonto è bello potete forse dire sì è qualcosa di armonico i colori ma sono sempre sfumature che non sono concettualizzabili non c'è una ragione non c'è un ragionamento da fare non lo posso definire non lo posso determinare anche perché come vedremo in seguito se lo potessi determinare lo potrei replicare potrei fare n copie del tramonto e non sarebbe invece bello come la prima volta se io so che qualcosa si può replicare all'infinito ecco che perde tutto il suo interesse deve essere unico quindi deve essere sostanzialmente indefinibile tramite concetto non posso utilizzare trovare un concetto non devo concettualizzare quindi attenzione il bello è universale deve arrivare a tutti anche a coloro che non hanno studiato per esempio dice Kant anche a coloro che sono magari sei totalmente privi di educazione all'arte facciamo un esempio l'arte astratta io sono di fronte a un quadro di arte astratta come prima reazione probabilmente potrebbe anche non sono sicuro ma dico forse potrebbe anche non piacermi non darmi questa sensazione di bello perché? perché non la capisco poi arriva l'esperto la guida del museo o prof di arte che dice guarda attenzione che l'artista voleva fare questo voleva usare questi materiali voleva fare una provocazione perché in quell'epoca magari c'era una guerra in corso e allora questi strappi del quadro sono il simbolo della vita spezzata dalle bombe sto inventando e allora magari dopo mi piace ma perché mi piace? perché ho capito il concetto che sta alla base dell'opera ecco questo per Kant un'opera d'arte che per essere apprezzata per generare in te piacere ha bisogno di una spiegazione razionale storica concettuale di inquadramento di contesto non è veramente bella per essere bella tu devi avere un'immediatezza una automatica reazione di piacere di fronte alla sua esposizione cioè tu devi essere come le radiazioni che sei esposto a una radiazione e immediatamente inizi non so a prendere fuoco senza se e senza ma senza bisogno di pensarci su è immediata questa reazione tu prendi il peperoncino e ti brucia la lingua senza sapere qual è la formula chimica del peperoncino tu sei davanti al bello e provi piacere senza nessuna necessità di educazione di scuola di concetti di ricostruzione storica di quale motivo all'artista di tecnica l'artista ha studiato questa tecnica la tecnica non è qualcosa che riguarda il bello il bello è qualcosa che riguarda un oggetto certo molto raro a questo punto capite da queste definizioni che il bello è più raro di quello che noi pensiamo perché deve soddisfare tutte queste condizioni però quando sei di fronte tu lo capisci che è bello e non c'è bisogno di nessuno che venga a spiegarti perché e per come tu provi piacere la prova provata del bello è il piacere che ti dà a te e a tutti gli altri ok? quindi anche un contadino che non ha mai studiato storia dell'arte messo di fronte a un'opera bella ti dirà è bella messo di fronte a una catena montuosa dirà è meravigliosa mentre messo di fronte al cielo stellato si commuoverà senza bisogno che arrivi Leopardi a spiegargli la poesia dell'infinito ok? finiscono a dire che quindi un'opera astratta è bella secondo canto un'opera di arte astratta può essere definita provocatoria può essere definita interessante quindi non è che è senza valore l'opera dell'artista ma non è bella ok? cioè qualcosa che ha una finalità più didattica più di farti capire certe cose ma ragazzi falleva l'arte astratta secondo canto attenzione canto non conosceva l'arte astratta è un esempio antistorico anticronologico quello che sto facendo però in modo che voi capiate no? cioè se a canto fosse stata presentata un'opera che per essere capita ha bisogno di una spiegazione ti avrebbe detto l'arte astratta è qualcosa di utile di didattico di interessante ti spiega come un'opera storica un periodo storico ti spiega l'intenzione dell'artista ma stiamo sempre facendo riferimento al concetto sta parlando non alla pancia sta parlando alla testa all'io penso ok? tu stai procedendo con delle categorie mentre qui stiamo nella critica del giudizio sono giudizi riflettenti devi riflettere nel cuore riflette dentro il tuo cuore il piacere ti sta commuovendo ti stai per mettere a piangere se è così è bello se invece c'è bisogno di uno storico che ti spiega perché e per come alla fine tu dici ah ho capito allora ho capito non ho provato ho capito avete chiaro la differenza tra capire e provare piacere? terza definizione il bello secondo la relazione dice Kant il bello è la forma della finalità di un oggetto in quanto questa vi è percepita senza la rappresentazione di uno scopo attenzione ve lo ripeto un po' più difficile questo la bellezza è la forma della finalità di un oggetto in quanto questa è percepita senza la rappresentazione di uno scopo ok? che vuol dire? vuol dire che quando immaginiamo stiamo di fronte a un tramonto e questo per Kant è il chiaro esempio di bellezza un tramonto rosso bellissimo commovente è un esempio che lui stesso fa di bellezza ora da un certo punto di vista perché noi riteniamo bello perché ci fa piacere provare questo piacere il tramonto perché dire a Kant il tramonto esprime un vago senso di finalità cioè noi davanti al tramonto proviamo la sensazione che tutto il mondo tutto quello che c'è intorno si è messo lì apposta per noi giornata triste c'è la interrogazione di filosofia sono preoccupato per prendere una boccata d'aria esco dopo che sto stato tutto il giorno davanti ai libri vedo un tramonto davanti a me sembra proprio ragazzi che qualcuno sia stato lì apposta per farci provare questo momento di piacere che abbia messo tutto lì per noi avete mai avuto questa sensazione che sia lì apposta per voi ci sia una specie di finalità cioè non vi spiegate il tramonto in termini di c'è la rifrazione della luce del sole perché l'inclinazione tra la terra e il sole x ok e quindi l'umidità dell'aria trasforma le frequenze della luce e quindi ci fa percepire quel meraviglioso rosso rosa del tramonto voi dite bello bellissimo sembra quasi che la natura si stia aprendo a me mi stia abbracciando mi stia dando una coccola dopo una giornata difficile ok questo è il bello però attenzione ha uno scopo in realtà no cioè voi percepite un vago senso di finalità una sensazione di finalità ma se io vi interrogo qual è lo scopo del tramonto voi siete bene in grado di dire che non avete nessun concetto di scopo cioè non riuscite a dare una definizione di qual è lo scopo del tramonto il tramonto non ha uno scopo cioè per parlare di scopo bisognerebbe fare riferimento a tutta una serie di leggi di cause e di effetti ok che noi non sappiamo definire certo lo scienziato potrebbe studiare l'inclinazione dei pianeti la rotazione l'aria il tasso di umidità e tutto il resto ma di fronte la sensazione che tu provi di fronte al tramonto non è di questa natura è di una certa vaga indefinibile corrispondenza in un senso generale di finalità che però tu non potresti definire a livello come dire cognitivo non puoi dire lo scopo del tramonto è che sta qui davanti a me e qualcuno ce l'ha messo ho la prova che qualcuno ha messo davanti a me il tramonto per farmi però piacere questo è insostenibile dice Kant perché se tu dici questo vuol dire che devi avere una prova ma io qui ti sto dicendo che tu provi una sensazione che è evidentemente diversa da quello che è nella critica della ragion pura è il procedimento logico matematico deduttivo razionale in un certo senso davanti al bello sentimento e ragione fanno crack cioè si dividono si rompono si rompe l'individuo in due perché da un lato tu puoi spiegare il tramonto come l'astronomo è Galileo Galilei però quello che tu provi è un senso vago di finalità di corrispondenza tra il tuo sogno di finalità perché abbiamo detto che per Kant gli uomini hanno bisogno di un obiettivo di finalità di senso quindi ha un vago una vaga corrispondenza alla tua fame di senso al mondo però poi razionalmente sai benissimo che questo senso non è nelle cose ma è dentro di te è un tuo modo di vedere il mondo avete capito? quindi è bello qualcosa che ci richiama da lontano un senso di finalità ma che noi non siamo in grado di definire è bellissima sta definizione è proprio quello che ci succede di fronte al bello cioè se voi fate un attimo conto della sensazione che provate quando state davanti a una cosa che vi emoziona sentite che c'è una connessione tra voi e quel qualcosa che non siete separati siete uniti questo avviene anche per l'amore per il senso del quando uno c'è un bel ragazzo una bella ragazza è chiaro che c'è un'attrazione di questo tipo ma non la puoi definire ok cioè quella sua bellezza una tipa che passa e ti sorriso sta lì per te ha una sua vita ok anche se in quel momento ti senti emozionato perché dici non è possibile la natura ha pensato a tutto è perfetto questo è il momento perfetto ma è una sensazione che io provo dentro di me che provo a traslare nel mondo ma poi il mondo invece funziona come dice la critica della ragion pura per cause e per effetti non perché qualcuno mette le marionette apposta per te ma noi però funzioniamo a livello sentimentale così cerchiamo la predisposizione del mondo che ci genera piacere ok quindi non riusciamo a concettualizzare e non riusciamo neanche a dare uno scopo preciso perché attenzione se il tramonto proprio uno volesse ridere e dicesse che il tramonto ha uno scopo per me ecco che faremo appugni con la prima definizione perché abbiamo detto che non deve avere nessuna utilità il bello quindi se alla fine a forza di insistere troviamo che c'è qualche finalità qualche scopo preciso al senso del bello e allora siamo di fronte a un bello utile mentre il bello non deve avere altra utilità che nel generare piacere ok quindi non concettualizzabile senza uno scopo appunto di cui si può dare spiegazione razionale linguistica direi anche non si può verbalizzare il senso della bellezza non si può descrivere con parole i poetici provano naturalmente ma è così difficile rendere su carta quello che è un sentimento che è più una vibrazione interna che non veramente un funzionamento di sinapsi che generano concetti o ragionamenti ok ultima e questa è un po' la diciamo definizione che più vi sorprenderà secondo modalità il bello è ciò che senza concetto come abbiamo detto prima è ritenuto come oggetto di un piacere necessario quindi detto in altri termini ragazzi secondo Kant il bello è assoluto e universale ora questo perché dico che vi stupirà perché nell'epoca contemporanea noi siamo convinti che il bello sia qualcosa di soggettivo una cosa è bella per me e non è bella per te tanto che c'è anche il modo di dire non è bello ciò che è bello ma bello ciò che piace ecco partiamo da questo modo di dire secondo Kant uno che dice una cosa così non ha capito niente di estetica perché sta mischiando due concetti ben diversi il concetto del bello e il concetto del piacevole allora Kant è assolutamente d'accordo che piace ciò che piace cioè che a ognuno piace qualcosa di diverso è assolutamente in dubbio a me piace per esempio il gelato con il pistacchio ma magari a te piace il gelato con il cioccolato a me il cioccolato mi sembra troppo dolce a te invece il pistacchio non ti sembra abbastanza dolce c'è chi piace gelato con la panna c'è chi invece mangia solo cose salate che il dolce non gli piace ok allora è assurdo stare a discutere sui gusti sui gusti legati al piacere ciò che è diciamo che determina il piacere come noi lo definiamo quello che vale per me è diverso da quello che vale per te è un piacere soggettivo cioè è un piacere che di per sé ha a che vedere con gli sensi come nel modo in cui siamo fatti ognuno di noi in modo diverso ok abbiamo gusti diversi dal punto di vista del piacevole ma il bello è qualcosa di diverso il bello è qualcosa di universale ok quindi per essere realmente universale il bello deve essere qualcosa che valica i confini geografici e valica la storia cioè il bello è qualcosa che piace ovunque e piace in ogni epoca storica piace in quanto esseri umani cioè il bello è qualcosa che ci accomuna tutti perché tutti in quanto esseri umani ci commuoviamo e proviamo piacere di fronte a determinati spettacoli naturali o determinati eventi che sono in quanto esseri umani belli questo significa che il bello è ugualmente bello per il saggio e per l'ignorante per l'uomo morale per l'assassino l'assassino privo di moralità in quanto essere umano messo davanti a una cosa bella prova piacere il colto così come magari il contadino che non ha potuto studiare all'epoca di Kant ce n'erano tanti proverà piacere nello stesso modo ok un uomo moderno e un uomo antico di fronte a un tramonto provano piacere nello stesso modo ok è qualcosa quindi il bello che per essere veramente bello deve toccare delle corde intime dell'umanità deve essere qualcosa che tocca un meccanismo di reazione tipicamente umano che non è soggettivo il soggettivo ha a che vedere con il modo in cui ognuno di noi è fatto il bello ha a che vedere con il modo in cui tutti gli esseri umani sono fatti è qualcosa che accomuna tutti ok quindi in tutti i giudizi dice Kant con i quali dichiariamo bella una cosa noi non permettiamo a nessuno di essere di altro parere senza fondare tuttavia il nostro giudizio sopra concetti ma soltanto sul nostro sentimento cioè noi diciamo bello qualcosa nel momento in cui ci aspettiamo che per tutti è bello ok cioè un conto è dire questo piace a me ma magari a te non piace a me piacciono i ragazzi biondi a lei piacciono quelli mori ok non mi aspetto nel dire a me piace un ragazzo biondo che tutti guarda che tu devi per forza amare il pistacchio tu andresti in giro a dire ma a me non piace diversamente quando ti accorgi che qualcosa è bella dal punto tale da schiacciarti da essere qualcosa a cui tu non puoi come dire non puoi ribellarti la forza del bello ti invade ti mette K.O. a quel punto ti aspetti che tutti gli esseri umani siano accumunati ok il giudizio di gusto esige il consenso di tutti dice Kant e chi dichiara bello una cosa pretende che ognuno dia l'approvazione all'oggetto in questione debba dichiararlo bello allo stesso modo per ciò che riguarda il piacevole ognuno riconosce che il giudizio che egli fonda su di un sentimento particolare e col quale dichiara che un oggetto gli piace non ha valore se non per la sua persona per il bello la cosa è del tutto diversa quando egli dà per bella una cosa pretende dagli altri lo stesso piacere non giudica solo per sé ma per tutti e parla quindi della bellezza come fosse quasi una qualità delle cose ecco perché a noi il bello ci sembra una qualità delle cose perché essendo così tanto oggettivo così tanto inesorabile così tanto unificatore dell'umanità così tanto comune accomunatore ci sembra quasi che non stia più dentro noi stessi ma fuori cioè talmente oggettivo il bello che ci sembra realmente qualità dell'oggetto ma in realtà è oggettivo perché come abbiamo visto finora con Kant essendo noi fatti tutti secondo Kant nella stessa maniera tutti quanti reagiamo nello stesso modo davanti a una cosa bella e quindi crediamo che sia bella lei la cosa invece che sia bello il nostro modo di reagire perché però è comune ed è universale avete capito? è come dire tutti quanti vedono una penna gialla ecco che noi crediamo che quella penna è oggettivamente gialla in realtà non è oggettivamente gialla è che tutti gli esseri umani sono tranne diciamo quelli che soffrono non so di problemi alla vista vedono questa penna gialla ok ma visto che tutti la vedono gialla possiamo tranquillamente per semplicità dire che quella penna è gialla ecco un tramonto è bello ci sembra oggettivamente bello ma perché? perché noi pretendiamo da tutti che provano lo stesso piacere cioè ci aspettiamo che chiunque prova lo stesso piacere e allora visto che tutti provano lo stesso piacere e tutti dicono che è bello è chiaramente bello è oggettivamente bello a questo punto il bello diventa oggettivo ok anche se non lo è diventa oggettivo perché semplicemente tutti provano la stessa cosa nello stesso momento e quindi soggetto e oggetto si fondono c'è una bellissima scena di un film si chiama Mission ok parla di una missione di gesuiti che diciamo a metà del cinquecento va nella foresta in Brasile la foresta di Iguazù dove ci sono delle famose cascate le cascate di Iguazù sono ancora bellissime si possono vedere e c'è questo gesuita inizia così il film che si arrampica pericolosamente è una parete scivolosa c'è la cascata e a un certo punto arriva alla sommità di questa cascata c'è una foresta lui si siede su un sasso e tira fuori da questo sacco dice che cosa tirerà fuori un flauto e inizia a suonare una melodia bellissima una cosa pazzesca oltretutto è una musica di Ennio Morricone uno dei più grandi compositori di musica per film questa musica è bellissima questa scena perché stai c'è di sottofondo la cascata il silenzio della foresta la foresta incontaminata dove nessuno era mai stato prima nessuno occidentale era mai stato prima questa musica arriva dappertutto nella foresta e a un certo punto vedi che da dietro gli alberi nascosti nella foresta piano piano si avvicinano incuriositi degli indios che vengono rapiti conquistati dalla bellezza e anche dal mistero di questa musica che nel cuore della foresta raggiunge tutti ok la musica è un vettore di bellezza universale questi indios non sanno nulla di musica di teoria della composizione di neanche di cos'è magari un flauto di metallo un flauto traverso ma sotto c'era una voce di un narrante diciamo di questo film che dice dai un flauto a un gesuita e lui ti convertirà il mondo cioè i gesuiti con la forza del bello dietro la musica riescono ad arrivare in popolazioni completamente diverse a commuovere della stessa bellezza degli indios che non hanno mai sentito la musica che non hanno mai visto un occidentale che non sanno neanche cosa è un flauto che hanno sicuramente musica completamente diversa cultura completamente diversa usi costumi storie tradizioni non c'entrano nulla con noi eppure vengono rapiti dal bello che ci unifica questo è un esempio meraviglioso di quello che Kant avrebbe pensato come bello il bello universale un bello che a cui non puoi resistere che ti attrae ok e che non è per niente soggettivo ora noi siamo in una società che pensa che il bello sia una cosa soggettiva perché questo perché siamo figli di un'epoca molto più individualista se vogliamo no pensiamo vogliamo dare valore alla nostra individualità alla nostra soggettività io penso che una cosa sia bella tu pensi che un'altra sia bella attenzione vi faccio riflettere su questo forse questa nostra è l'epoca di minore differenza e non di maggiore differenza sul senso del bello quando parliamo di influencer quando parliamo di moda quando parliamo di pubblicità noi stiamo facendo riferimento a un mondo del post capitalismo diciamo di una nuova forma di liberismo in cui è centrale trasformare il cittadino in consumatore e come si fa a far consumare bisogna instaurare all'interno di ognuno di noi il desiderio di bellezza diciamo così il desiderio di volere qualcosa perché quella è bella oppure ci rende più belli ok ma se ognuno di noi desiderasse qualcosa di diverso come si fa a fare un pantalone uguale per tutti una cinta uguale per tutti una felpa uguale per tutti uno zainetto uguale per tutti come faccio a vendere a tutti lo stesso iphone se tutti noi abbiamo dentro di noi un senso di bellezza soggettivo in realtà non è così questa nostra è l'epoca della grande illusione in cui ognuno di noi crede che quella borsetta gli piace perché a lui piace quella maglietta gli piace perché a lui piace non vede l'ora di averla perché è proprio suo il gusto non capendo che altro non è che una replica una diciamo una reazione studiata e controllata delle industrie il cui lavoro è generare il senso del bello in maniera molto trasversale molto massificata quando si parla di società di massa si parla proprio di società a cui è stato tolto il senso soggettivo del bello è stato instaurato un senso del bello veicolato dalla produzione industriale quindi se io voglio fare un blog voglio vendere miliardi di iphone devo prima produrre una forte campagna di aspettativa di pubblicità di estetica sono belle le pubblicità dell'iphone devo far venire fuori un desiderio di bellezza e di conformarsi a questa bellezza perché la gente si mette in fila a comprare il mio iphone e non il samsung ok ci siamo l'influencer che cos'è è una ragazza anche un ragazzo ma penso più spesso una ragazza che viene considerata oggettivamente bella ma che in realtà cosa fa vende prodotti tu vuoi cercare di assomigliare a quella bellezza che è studiata a tavolino che è diciamo assolutamente frutto di di una serie di artifici fatti apposta per essere credibili agli occhi dei molti ma per massificarci e non per relativizzarci tutti vogliamo assomigliare a quell'influencer e non alla tizia che è considerato bruttina del piano di sotto ok perché tutti vogliamo quel trucco perché tutti vogliamo andare a fare le vacanze dove va l'influencer o a a comprare la stessa borsetta perché ci illudiamo vittime di campagne di pressione mediatica eccetera oltre a me social network che questo ci renda più felici più apprezzati più belli più invidiati ok quindi capite come è un po' un paradosso noi siamo in un'epoca in cui crediamo che la bellezza sia soggettiva quando in realtà ricerchiamo una bellezza oggettiva creata ad hoc per vendere prodotti pensa cosa penserebbe Kant oggi è il contrario un po' di quello che lui pensava la bellezza deve essere disinteressata il senso del bello è quando tu stai di fronte a qualcosa che non riesci a definire certamente non acquistabile al supermercato o in profumeria o in gioielleria ok benissimo ora ma la bellezza è tutto uguale eh no Kant divide bellezza libera e bellezza aderente è molto facile capire questa distinzione perché chiaramente il bello è qualcosa di puro per Kant quindi ha a che vedere ragazzi anche il bello col senso a priori che noi abbiamo con la forma a priori che abbiamo della nostra diciamo del nostro sentimento eh così come spazio e tempo sono forme a priori della nostra sensibilità il bello se vogliamo è una forma a priori del nostro sentimento giusto ecco cioè qualcosa di puro di disinteressato eh di di non replicabile evidente che se io creo un canone il canone neoclassico può essere veramente bello eh no perché abbiamo detto che il bello non è concettualizzabile se io faccio una scuola artistica ecco che sto tradendo il bello è chiaro è bello il primo di canone neoclassico quando Fidi a Prassidele scolpendo il marmo tirano fuori un discobolo lì c'è il bello ma quando nel nel neoclassicismo si si fanno delle repliche delle statue romane greche ispirandosi a un canone si crea un canone il canone neoclassico ecco che da bellezza libera si va alla bellezza aderente la bellezza libera è dovuta al genio creativo è dovuta alla bellezza della natura a qualcosa che è appunto abbiamo detto disinteressato puro senza scopo universale e libero ok mentre la bellezza aderente è qualcosa che sostanzialmente cerca di fossilizzare il bello in delle regole delle mode dei canoni e cercare di riprodurre il bello il bello è irriproducibile ok lo vedremo poi meglio con la prossima lezione è irriproducibile perché? perché non si può concettualizzare cioè tu non è che se dici che il bello di quell'opera artistica è dovuto alle forme alla proporzione tra il viso i muscoli del corpo la posa eccetera allora lo rifai ed è di nuovo bello perché il bello non è qualcosa che tu puoi rifare tramite concetto è un sentimento che tu puoi provare ok e non proverai mai la stessa bellezza di una fotocopia perché? perché sai che si è perso completamente l'originalità del bello la domanda potrebbe essere ma se non esiste quindi una teoria del bello come faccio a educare le persone al bello come ci si educa al bello io non posso insegnarlo ok nella lezione di storia dell'arte non posso insegnarti il bello i canoni posso insegnarti la storia dell'arte come ci si avvicina al bello secondo canta attraverso la contemplazione cioè l'unico modo per abituarsi al bello per riconoscere il bello è proprio come esporsi a dei raggi magnetici a una specie di reazione chimica perché abbiamo detto è una reazione di pancia quindi bisogna abituarsi a far funzionare il sentimento a far venire fuori una reazione di pancia solo davanti a cose belle noi riusciamo a capire che cos'è il bello non certo a scuola non certo nei libri non certo nelle opere che sono dei canoni non certo nelle mode non certo in tutto ciò che standardizza e replica vuole replicare vuole fossilizzare vuole concettualizzare il bello ok devi stare davanti a un'opera bella punto e basta se ti fa commuovere allora questa è la prova provata che sei di fronte al bello l'ultima domanda che si fa accanto è come posso giustificare l'universalità del giudizio estetico cioè come posso essere veramente sicuro che un giudizio estetico che io dico è bello per tutti sia veramente bello per tutti ok vi ricordate una cosa del genere l'aveva già fatta con l'io penso come fa la deduzione trascendentale come faccio ad essere sicuro che le categorie sono veramente quelle e non me le sono inventate ecco un ragionamento simile lo fa anche nella credita del giudizio la deduzione dei giudizi estetici ok cioè come faccio a essere sicuro che i giudizi estetici sia legittimo definirli universali siano effettivamente universali e non sia un'illusione ok quest'universalità del bello avete capito l'idea forte di Kant è che il bello sia universale e non soggettivo allora premessa tutte le menti umane funzionano nello stesso modo questa è la stessa identica premessa della critica della ragion pura e della critica della ragion pratica ma direi in generale un po' di tutto l'illuminismo l'illuminismo si basa sull'idea che tutti noi abbiamo un minimo comune denominatore no quello che era legge morale quello che era io penso qui è il sentimento o comunque in generale il modo che abbiamo di funzionare di fronte a diciamo dei fenomeni esterni ok ora vi ricordate che esisteva l'intelletto e l'immaginazione erano due facoltà di cui ci aveva parlato nella critica della ragion pura l'immaginazione è una facoltà che crea le immagini e le sottopone all'intelletto ora che cosa dice Kant a volte succede che l'immagine che produce l'immaginazione sottoponendola all'intelletto è di per sé rappresenta di per sé una stato di armonia è un'immaginazione di qualcosa di un tale senso di armonia di finalità di equilibrio che viene a soddisfare l'esigenza di equilibrio di finalità e di armonia dell'intelletto cioè io vedo qualcosa l'immaginazione crea un'immagine e la sottopone all'intelletto quest'immagine di per sé pensa a un tramonto è qualcosa di armonico di perfetto di equilibrato ok quest'immagine di un qualcosa di equilibrato di armonico e di finalistico corrisponde a volte è casuale non sempre qualche rara volta ha un'esigenza di finalità del nostro intelletto l'intelletto vuole trovare di fronte un mondo che è così per lui allora quando l'immaginazione crea questo tipo di immagine che soddisfa questo fabbisogno dell'intelletto si prova piacere e si prova bello il bello è il piacere della corrispondenza tra il fabbisogno di finalità del nostro intelletto e l'immagine che viene prodotta dall'immaginazione in quel momento avete capito? il senso di piacere deriva da una coincidenza tra l'immagine e il fabbisogno dell'intelletto come se in quel momento gli dai lo zucchero all'intelletto sai quando dai lo zucchero a un bambino diventa subito soddisfatto anche a noi non solo i bambini ecco quando per puro caso in un certo senso la cosa fuori di noi genera un'immagine l'immaginazione crea un'immagine di ciò che è fuori di noi che soddisfa questo senso di armonia di finalità e di equilibrio dell'intelletto l'intelletto prova piacere l'organismo l'essere umano prova piacere scatta quindi si attiva il sentimento del piacere dal lato mentale si passa al lato emotivo e noi diciamo che bello questo tramonto perché diciamo che bello perché l'immagine del tramonto è qualcosa che soddisfa la necessità di finalizzazione di armonia dell'intelletto avete capito adesso perché il bello è oggettivo è universale perché noi tutti noi abbiamo l'intelletto e tutti noi abbiamo l'immaginazione e tutti i nostri intelletti hanno bisogno dello stesso ordine della stessa armonia della stessa finalità quindi quando una qualsiasi mente dell'uomo è di fronte a uno spettacolo la cui immaginazione crea un'immagine che soddisfa l'esigenza dell'intelletto poiché la premessa è che tutti noi siamo fatti nello stesso modo abbiamo la stessa immaginazione e lo stesso intelletto sono diverse le esperienze però di ognuno di noi quando l'esperienza è uguale il sentimento è uguale avete capito? quindi chiunque in ogni posto del mondo in ogni epoca storica ogni grado di cultura che ha dall'intellettuale all'analfabeta posto di fronte a un bel tramonto proverà piacere e dirà è bello e questo anche al di là non solo degli studi della storia dell'epoca in cui vive del posto del mondo in cui vive ma anche della moralità di quest'uomo abbiamo detto che un assassino può aver fatto un percorso di immoralità totale di non capire nulla della legge morale giusto? proprio è uno che non applica nulla di tutto ciò che diceva la critica della ragion pratica anche colui che non applica nulla essendo fatto di intelletto e immaginazione proverà bellezza posso essere un super ignorantone di non applicare nulla della matematica e della fisica della critica della ragion pura nonostante questo sono fatto di immaginazione e intelletto e proverò piacere davanti al tramonto avete capito? che questa critica è in un certo senso indipendente dalle due perché fa un ponte ma ci pone di fronte a un'esperienza che non ha bisogno né di morale né di cultura è qualcosa che riguarda la pancia e sta dicendo che la pancia funziona attraverso lo zucchero che è uguale per tutti e lo zucchero è la corrispondenza tra immaginazione e intelletto quando ciò avviene è rarissimo perché a volte l'immagine che ci dà l'immaginazione non è minimamente confacente al fabbisogno di intelletto questo è al 99,9 dei casi infatti parla è molto bello questa bellissima definizione libero gioco dell'immaginazione con l'intelletto cioè quando l'immaginazione inizia a giocare con l'intelletto cioè gli propone queste immagini ma liberamente è un libero gioco non c'è una regola precisa alle volte viene fuori che l'immagine ci commuove quando c'è questo libero gioco tra immaginazione e intelletto ecco che c'è questo piacere c'è la bellezza ma quindi la bellezza per Kant dove si trova? sono le cose essere belle o siamo noi che siamo belli o siamo meglio degli esseri dotati di sentimento della bellezza e dobbiamo fare attenzione a questo aspetto perché mentre nella critica della ragione pura noi cercavamo proprio il legame col mondo esterno di giustificare il mondo dei fenomeni e dei noumeni vi ricordate? qui stiamo parlando di un libero gioco che avviene dentro di noi e quindi il bello è nell'uomo è nel sentimento dell'uomo ok? il tramonto non è bello in sé no? ma è bello per un piacere necessario cioè fonte di piacere necessario quando trovi qualcosa un fenomeno fuori di te che è fonte di piacere necessario in te hai trovato la bellezza ma quindi la bellezza è qualcosa che dentro di noi è pronta proprio per per entrare in azione e questo è confortante cioè non è qualcosa che noi dobbiamo affrettarci a trovare fuori ma è una predisposizione naturale che abbiamo è bellissima questa idea l'uomo ha una predisposizione naturale per la bellezza ok? e qui concludo c'è la terza rivoluzione e ultima rivoluzione copernicana aveva fatto Kant una prima rivoluzione nella critica della ragion pura invertendo soggetto e oggetto della conoscenza non è più il soggetto che si deve adeguare alla conoscenza del mondo esterno ma è il mondo esterno che per essere conosciuto deve rientrare negli schemi di spazio tempo e nelle categorie quindi si deve adattare il fenomeno per diventare un vero fenomeno giusto? seconda rivoluzione il bene e il male non sono qualcosa di esterno e l'uomo si deve adattare al bene e al male deve adattare la morale a un concetto di bene e male al contrario è la legge morale che all'interno di noi produce il bene e il male ok? non è qualcosa a cui noi tendiamo ma è qualcosa che discende dalla libera e piena capacità di utilizzo della legge morale quando noi abbiamo il coraggio di utilizzare la legge morale quindi siamo noi con il nostro giudizio morale vi ricordate? l'universalizzabilità dell'imperativo categorico che creiamo la morale non abbiamo la morale scritta sulle tavole della legge di Mosè quello è bene primo comandamento secondo comandamento terzo comandamento no seconda rivoluzione copernicana è l'uomo che genere comandamenti e non sono quindi non è l'uomo che si deve adattare a una morale ma è la morale che si deve adattare alla legge morale ok? è il bene e il male che è prodotto dalla legge morale ma la legge morale è dentro di me e io la posso far funzionare in maniera autonoma e direi anche indipendente dalla religione dalla tradizione dalla morale precostituita dalle leggi terza rivoluzione copernicana il bello non è una proprietà oggettiva o ontologica non sta nelle cose ma qualcosa che nasce nella nostra mente in relazione al piacere che si genera in noi ragazzi quando siamo di fronte a un'armonia tra noi e il mondo ok? quindi il bello è qualcosa che viene prodotto dall'essere umano nel momento in cui entra in relazione con qualcosa in grado di riportarci questo senso di armonia tra noi e il mondo tanto che Kant dirà se le forme belle sono nella natura la bellezza è nell'uomo avete capito? le forme belle sono nella natura ma chi è che dà forma alla forma? chi è che dà senso al mondo? chi è che prova piacere di fronte a queste forme? chi è in definitiva l'artefice della bellezza? il sentimento dell'uomo e quindi è l'uomo la bellezza è dentro di noi terza rivoluzione copernicana ok? non è un tramonto a essere bello e noi dobbiamo capire come farlo ad apprezzare veramente ma al contrario diventa bello solo se è in grado di produrre in noi questa emozione questa ma anche questa commozione capite quanto è romantico questo nuovo approccio quanto sarà utile e necessario ammirato in epoca romantica quindi il sentimento è la facoltà dell'uomo di produrre il bello il bello lo produciamo noi dentro di noi e lo applichiamo al mondo esterno ok? lo proiettiamo l'uomo proietta l'armonia interiore nel mondo esterno e lo descrive come bello quindi noi abbiamo un'armonia interiore la proiettiamo nel mondo esterno quando vediamo che questo mondo esterno effettivamente è confacente a questo senso di armonia che è però tutto umano allora è bello il tramonto è bello perché perché viene a incarnare un senso di armonia di perfezione di equilibrio che è tutto umano terza rivoluzione copernicana ok? e qui finisce diciamo la trattazione del bello ok? e la prossima lezione sarà dedicata alla diciamo analisi del sublime del genio e del giudizio riflettente di carattere teleologico ok? abbiamo capito già da adesso che il driver fondamentale del racconto è la finalità la finalità ok? ma la finalità non è soltanto nell'essere umano nella ricerca di armonia nei confronti del mondo è nella bellezza nell'estetica ma è anche nel mondo della natura della vita tutto ha una finalità e allora vedete come il giudizio riflettente mette come due facce della stessa medaglia il giudizio di gusto che parla del bello ma anche il giudizio teleologico che parla di finalità della natura perché entrambi sono accumulati da un senso di finalismo ok? in questo caso un finalismo che definiremo noi sentimentale che l'uomo proietta fuori dal mondo e nella bellezza della natura e dell'arte ok? ciao a tutti e viva la filosofia grazie a tutti